ben ritrovati da Stefano Ballerini e dalla nostra redazione andiamo a ricordare tutto ciò che è successo in questo lungo weekend del Bano appena andato agli archivi e allora cominciamo da dal sabato dobbiamo ripercorrerla in questa maniera perché eh la prima notizia che era arrivata sulla nostra attestata era stata quella del campionato di calcio a cinque che ha chiuso la regola season adesso andremo a vedere cosa succederà nei playoff si era cominciato venerdì ovviamente in terraferma si gioca il turno il venerdì solo l'Elba novantasette gioca il sabato e allora andiamo a vedere quelli che intanto erano stati i primi risultati Fuzza al Viareggio Atletico Viareggio nove a due nel derby Scintilla milenovecento quaranta e cinque Cuspisa due quattro quattro strade Fuzza al Giovane Granata addirittura col pallottoliere diciotto a zero Massarosa calcio cinque Montalbano Cecina nove a uno margine coperta Sanfrediano due e cinque Secur Job Toringhese undici sette l'Elba novantasette andava sul terreno sabato alle quattordici e trenta la Lucchese era seconda in classifica dovendo ancora giocare contro i nostri ragazzi del Bari doveva vincere per vincere il campionato vincere la regola season così è andata Fuzza Lucchese batte il ma novantasette cinque a zero noi mancava Marchetti e allora non abbiamo però i marcatori che ancora non sono stati pubblicati ce ne scusiamo la Lucchese ha schierato Farnocchia dal Poggetto Unti Angilletta Quadrelli Favazza Ciubane Basile Serucu Marziotti e Ramnazzi Guadagnucci allenatore Biondi Bucci l'Elba novantasette schierava Burelli Pardi Arrecchi del Buono Scarfato Angiolella Cristian Linaldeddo Depinto Martorella Partipilo allenatore Linaldeddo ricordo la Lucchese vince cinque a zero e la classifica è chiusa con Fuzza Lucchese sessantotto San Frediano sessantasette Cuspisa sessantadue Fuzza Diareggio sessanta Polisportiva quattro strade cinquantanove Fuzza Massa cinquantatré Massarosa quarantasei margine coperta e scintilla mila novecento quarantacinque a pari punti trentasei Secur Job trenta Montalbano Cecina ventinove l'Elba novantasette si piazza con ventidue punti davanti a Toringhese diciassette giovani Granate Atletico Viareggio undici comunque sarebbe stata salva ma ripeto in questo campionato appena concluso non ci sono state retrocessioni e allora dal calcio a cinque noi dobbiamo risalire al panorama della pallavolo perché perché si è trattato di un sabato pomeriggio l'abbiamo trasmesso in diretta grazie a Luca Calafati l'Elba Volley ha restituito con gli interessi decisivi l'andata la sconfitta uno tre vincendo per tre a zero sulla Folgore San Miniato venticinque diciotto venticinque venti venticinque diciassette con lo schieramento di Iacobelli Lupi Vannucci Lorenzo libero due Baronti Vannucci Alessio Vallini Capitano Calafati Spalti Baluganti Michele Tagliabracci Bertucci Vivaldi libero uno Balugandi Matteo allenatrice Elvira Savostianova per dovere giornalistico Folgore San Miniato con Bartoli Spadoni Tuccini Grossi Gori Lucchetti Pieri Centi Massafra Tammone Latessa Lelli allenatore Manolo campioni arbitrato l'incerto Tartaglione e allora con una gara da perfect game l'Elba Volley restituisce Pamper Focaccia con gli interessi che vale la qualificazione alla Folgore San Miniato e dal tre a uno subito la settimana scorsa dopo una buona partenza uno a zero il set vinto da diciannove undici poi però purtroppo spengemo i collegamenti vinciamo tre a zero chiaro nitido Elbano ci piazziamo comunque il girone si deve ancora eh completare questo girone di finale eh intanto battendo la Folgore siamo comunque terzi alle finali regionali passano le prime tre eh dunque andiamo avanti tutti e tre i set comandati dal team di Elvira Savostanova tranne il cinque dieci iniziale del secondo set e poi ricapovolto a favore dei nero verdi portoferraiesi nel primo vantaggio oscillanti tra più sette e più otto con la punta del più nove sul ventuno dodici nel secondo la Folgore provava a organizzarsi la rimonta si portava cinque dieci ma poi il servizio devastante di Alessio Vannucci rimetteva tutto a posto con l'Elba Volley che pareggiata la frazione sul tredici tredici rimaneva sempre in testa tranne un effimero pareggio venti venti per poi chiudere venticinque venti con un bel rush finale nel terzo dopo il primo punto ospite Vannucci e compagni se ne andavano quindici dieci diciotto quattordici diciannove quattordici venti quindici picco del ventitré quindici chiudendo venticinque a diciassette pratica anche stavolta regolata con la Folgore tre a zero passi lunghi e ben distesi siamo alle finali regionali con una squadra che arriverà dalla fase appennino toscano dunque ne ha via posto nonostante aver dovuto assistere ancora ad un paio di chiamate dell'arbitro Tartaglione ancora da rizzarsi i capelli però abbiamo mantenuto i nervi saldi e dunque vittoria a poi sempre parlando di pallavolo poi faremo un salto avanti di domenica under tredici girone primo quarto posto pallavolo elba pallavolo follonica purtroppo uno due dal venticinque quindici ventuno venticinque 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 ventisette ai vantaggi nel nella semifinale dall'altra parte new life project castelfranco bianco due a uno la finale sarà pallavolo follonica new life project il terzo e quarto posto vedrà la pallavolo elba giocare con il castelfranco bianco e per l'under quattordici coppa sarranieri girone a donoratico sport under quattordici elba volle finisce purtroppo tre a zero venticinque diciassette venticinque diciotto venticinque diciotto nel calendario invicta volley nera pallavolo follonica uno tre pallavolo elba elba volley tre a zero nel derby di due settimane fa donoratico sport under quattordici new volley duemila diciannove zero tre e udite udite oppure leggete leggete su elba sport punto com la classifica è davvero incredibile pallavolo elba new volley duemila diciannove eh pallavolo follonica invicta volley nera donoratico sport e elba volley hanno tutte punti stanno tutte a tre punti incredibile ma vero la pallavolo elba del tredici perde di un soffio la finale del campionato territoriale basso tirreno questa la notizia che prendiamo gentilmente da erico l'elbana sport ringraziandola l'elbane vincono rapidamente il primo set e nel secondo le ragazze delvira sono scese però purtroppo in campo con meno grinta e convinzione delle avversarie che hanno conquistato il secondo set nell'ultima frazione le i e l'elbane inizialmente di svantaggio ring realizzavano un incredibile rimonta portandosi ventiquattro ventidue ma poi tre episodi a loro sfavorevoli hanno portato la pallavolo elba alla prima sconfitta ai vantaggi venticinque ventisette peccato perché la vittoria pareva davvero alla loro portata adesso l'elbane disputeranno la finale terza e quarto posto ma comunque siamo orgogliosi scrive l'edicola di questo gruppo fantastico di queste ragazze che hanno sempre dato il massimo che hanno sempre combattuta con grinta e che hanno confermato anche quest'anno di essere semplicemente meravigliose restando sempre umili e corrette la la pallavolo è scesa con già da chiappa ginevra mastro simone alice medici penelope mercantelli barbara pierolivo a soggia greta squarce giulia venturina andiamo alla pallavolo elbander dodici vinciamo contro l'invitta grosseto e ci aggiudichiamo l'accesso alla fase regionale notizia che preleviamo sempre da edicola sportiva edicola elbana sport grazie passione tecnica voglia concentrazione contraddistinguono la squadra delle piccole atlete dell'under dodici della pallavolo elba dopo aver vinto il campionato territoriale tre per tre sabato tredici aprile hanno affrontato l'invitta grosseto in campo neutro a piombino vincendo la partita per due a uno aggiudici aggiudicandosi così l'accesso alla finale regionale che si terrà a firenze a maggio i primi due sette sono stati giocati dalle piccole come le abbiamo chiamate zanzarina zanzarino ormai è il loro nome di battaglia con determinazione e tecnica dimostrando di essere concentrate anche giocando con squadre con maggiore esperienza mettendo in difficoltà sempre le loro avversarie dunque per coach stacchini barbara e il suo team è stato raggiunto un obiettivo importante che in tanti anni di giovani l'elbana ancora non si era visto e dunque non ci resta quindi a che aspettare la finale di firenze che comunque vada per la pallavolo elba sarà significativo poter andare a rappresentare il comitato basso tirreno in una regionale è già una grande vittoria allora questo è il costruttivo della pallavolo elbana poi passiamo alla domenica dove noi eravamo di scena con le nostre telecamere a porta azzurro porta azzurro laiatico gara diciamo abbastanza decisiva per la volata salvezza dopo un primo tempo finito con laiatico in vantaggio 1 a 0 incertezza di bartolomeno uscita e pallonetto vincente di Bettini avevamo avuto un primo calcio di rigore all'inizio di presa ma ferrini che che batte di potenza di destro a destra viene intercettato da una grandissima parata di vannucci dopo un quarto d'ora arriva un secondo rigore per un fallo da dietro su un attaccante del porta azzurro va sul dischetto bel tram realizza lasciando di sasso vannucci finisce uno a uno e dunque un punto per uno l'aiatico che sta sale a ventotto il porta azzurro sale a ventisette un piccolissimo passettino avanti ma il marciana vince due a zero a supereto e salta le due formazioni di cui avevamo appena parlato allora andiamo a vedere i risultati della eh categoria della seconda categoria allora andiamo andiamo a trovarli allora seconda categoria gironici porta azzurro l'aiatico uno a uno audaci sulla debba basta il calcio è nuovo valdicecina tre a due audace che si è scarato con lista medici quarantaseiesimo gorgoglione mazzarri cinquantatré giacomelli entra e segna il gol decisivo baldi sambuco meloni coscarella luciani dal cinquantesimo diversi nicolicchia galerotti ibba dall'ottantacinque fusai allenatore sarandria al quarto luciano pare luciani pareggio di mimini trentadue vantaggio elba coscarella trentotto ripareggio per il castelnuovo di bilei minuto quarantuno entra giacomelli al cinquantatresimo e dopo dieci gol segna il gol del decisivo tre a due come detto porta azzurro l'aiatico uno a uno montieri salivoli zero tre portuale livorno rosignano solvè due a due riotorto vada zero a uno stagno calcio livorno la cantera acri gabbro nel derby uno a uno su vereto duemilaventi marciana marina zero due marciana con russo arnaldi bettini bianchi costa de jana mazzei edoardo mazzei federico mazzei riccardo la saga dei mazzei al posto di riccardo entra messina minuto quarantotto provenzali somma allenatore zini il marciana se la risolve in ultra zona cesarini ottantanovesimo l'una zero di bianchi al novantunesimo segna messina che era entrato al quarantottesimo per riccardo mazzei la classifica della seconda categoria portuale sessantasei volterrana cinquantanove rosignano cinquantotto academy livorno quarantasette con il castelnuovo val di cecina vada a quarantacinque rio torto trentotto punti audaci zona d'elba che sale a trentasette salivo di trentadue stagno calcio livorno trenta laiatico ventotto marciana marina e porta azzurro ventisette cantana gabbro ventidue montieri ventidue su vereto quindici punti per cui il marciana meglio di del porto azzurro dunque questo è l'aggiornamento della seconda andiamo a vedere quello che è successo in terza perché perché la campese andava a livorno sul campo della virtus ultima i gialloneri cercavano i punti della matematica ma ne manca ancora uno trocco le compagni vincono due a zero allora la virtus entrata in campo in sette poco dopo con la campese già in vantaggio di due a zero troccolo boom boom secondo e terzo del primo tempo la virtus poi rimane in sei per un infortunio non si può giocare a calcio in sei gara sospesa la campese vince sul campo due a zero ma avrà mercoledì la vittoria a tavolino per tre a zero ci portiamo a più nove dal palazzi che pareggia manca un punto che potrebbe arrivare mercoledì dalle quattordici e trenta in diretta edicola sportiva urbana nel recupero infrasettimanale al teseo teseo di mariani campo con il romagliano forza campese amatori saline monteverdi zero a uno sasso pisano che batte il nostro rimarino interrompendo la striscia positiva uno a zero come detto virtus livorno campese due a zero sul campo sarà zero tre a tavolino campiglia football livorno cinque a zero orlando che ferma il palazzo e dunque ci consegna la eh futuribile promozione che è a un punto romagliano batte colle salvetti tre a due carli salviano tre e ventitré uno sei campese sessanta sessantacinque fatti diciotto subiti più quarantasette palazzi meno nove a cinquantuno manca un punto monteverdi quarantotto campiglia quarantuno romagliano trentanove sasso pisano trentanove tre e ventitré trentanove colle salvetti trentasette orlando livorno trentuno amatori saline ventisee rio marina diciotto cadi salviano sedici futbolivorno nove virtus livorno sette avrà anche un punto di penalizzazione oltre che la multa canottaggio gozzi è oro per il canottaggio porta azzurro ASD ancora grazie a Edicola e il Bana Sport i campionati italiani di gozzo di gran fondo organizzati dalla società pisana di canottaggio biglia visto nelle due giornate di gara tredici e quattordici aprile trecentottante equipaggi da tutte le regioni italiane impegnati nelle diverse specialità gozzo nazionale gozzo elba e iole la gara della quarta edizione ha segnato il titolo di campionese italiane a Valeria Giombini Chiara Cascione Manuela Funai e Sofi Matacera che timonate con maestria e grinta da Matilde Conti hanno raggiunto il più il podio più alto nella premiazione ai navicelli col tempo di gara ventuno zero cinque sessantuno superando per un secondo l'equipaggio del Club del Mare di Marina di Campo Barbara Cavicchioli Alessia Bartaletti Paola Marmeggi Donatella Caggiano timonate da Davide Giusti nel bellissimo sabato di aprile è scaldato da un sole torrido questa è la descrizione del dell'avvenimento l'inno italiano e il tricolore è tornato a svettare all'isola d'elva brisano di oro e di argento chi ben comincia come si dice il vecchio proverbio è a metà dell'opera quindi grandi auguri e buon lavoro agli allenatori Eleuterio Lambruschi e Dario Conte per la stagione duemila ventiquattro tiro con l'arco ieri allo stadio comunale di Capoliveri giornata domenicale dedicate a molte discipline sportivo con pranzo e tanta bella buona musica tra le altre invitati gli arcieri del mare che hanno fatto gradita dimostrazione ed esibizione anche con una mira in una mini gara interna e dunque le fotografie scattate dal sottoscritto ieri in quel di Capolivero ringraziamo assolutamente tutti questo è il nostro consuntivo di questo eh notiziario sportivo di lunedì quindici aprile che rimarrà nei nostri annali su facebook e youtube di Firenze Viola Super Sport io vi saluto vi ringrazio ci sentiamo questa sera per la seconda edizione di lunedì quella di ericola erbana sport di zio stefano reggini che comincerà alle ore ventuno e trenta io arrivo per concludere con gli sport vari verso le ventidue quindici mi scuso ancora una volta per lunedì scorso una un disguido mi ha eh negato di poter partecipare avevo il telefonino momentaneamente fuori uso e non me ne ero accorto da stefano ballerini da elbasport.com gestita dall'agenzia stampa di Firenze Viola Super Sport per questa edizione di lunedì quindici aprile è tutto ringrazio Enrico Milano la linea torna alla nostra regia a presto e a questa sera grazie vi voglio bene viva lo sport elbano di elbasport.com Grazie a tutti Grazie a tutti